questa è l'ora solare buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti e bentornati in nostra compagnia abbiamo un esordio per questa puntata particolarmente felice si cerca sempre di capire come fare a presentare una personalità e una persona come lei e io allora dico questo il giorno in cui è nata il mondo il mondo intero sorrideva simona marchini e che attrice e ci vorrebbe tutta la ola dello stadio attrice conduttrice ola regista ola e ambasciatore dell'unicef ola tutto lo stadio in piedi perché questa signora fa delle cose veramente speciali poi ho pensato quando sei nata il mondo il mondo sorrideva mia madre un po meno perché mi raccontò poverina che io insomma non venivo fuori allora si partoriva in casa con l'ostetrica e mamma dice l'ostetrica si era così impaurita che tirò fuori un'immaginetta la madonna accesa una candela diceva madonna mia ho mai fatto mai capita niente proprio oggi mia madre no poi alla fine venni fuori un poco lunga con la testa allungata e mio nonno che era spietato il papà di mio padre no disse bruttina sta bambina invece poi diventare uno splendore assolutamente questo già vi inquadra il quadro prendete il chiodo e attaccate dal muro allora questo papà questo papà com'è importante papà si alvaro e lo vediamo qua sorridente con un grandissimo coreografo russo igor moiseyev è stato una cosa straordinaria mio padre finanziò la prima primo arrivo a roma di questa compagnia mitica nel 61 che è la compagnia di danza popolare russa che è una cosa eccezionale e diventammo grandi amici io ero incantata avevo 18 anni stavo così in adorazione perché sono straordinari e pensa poi per tante vicissitudini entrammo amici poi ci siamo persi quando io avevo il festival di todi i misi in testa di farli tornare in italia dopo 25 anni che mancavano scuola mia vita è piena di cose abbastanza straordinarie devo dire allora lo rintracciai lo aveva già 96 anni ci siamo commossi al telefono mi ha aiutato in tutti i modi e ho riportato in italia dopo 25 anni questa compagnia eccezionale che ha inaugurato la cavea dell'auditorium di roma con 3.000 persone voglio dirlo perché questo sei tu grande amore per la cultura grande amore per oltretutto promemoria naturale di quello che è di bello ti è accaduto da ragazzina tu poi hai saputo riportarlo in vita dopo da ragazza solo poco poco più grande appena appena si è uscita appena veramente si è riuscita a fare tutto questo ma simona marchini e qui metto la marcia del bravo presentatore come direbbe nino frassica che con renzo arbore e con simona marchini usi hanno fatto cose belle all'età di quattro anni grazie a papà alvaro esordisce a teatro con una parte no della serie come andò quella storia vogliamo saperla vogliamo saperla questa mia figlia questa è tua figlia arriviamo anche a tua figlia ma tu avevi quattro anni teatro era a monteverde de roma si che succede perché mio padre che era chiaramente militava per la cultura al popolo da sempre da quando era nato allora e mai lo ringrazieremo abbastanza recitava anche no perché in realtà avrebbe voluto far l'attore poi i doveri familiari va bene e allora lui mise su un teatrino molto così insomma dilettantesco però molto amatoriale a monteverde vecchio dove abitavamo siccome ero una bambina post bellica io partecipavo a tutto i miei genitori e papà mi leggeva tutto mi insegnava a memoria sapevo 13 poesie di trilussa che torneranno tanto poi cantava un bel di vedremo cioè un mostriciattolo così allora una sera non gli stava sul fondale a loro poveretti facevano morte un commesso viaggiatore di arthur miller papà protagonista naturalmente va bene e io stavo là dietro e guardavo tutta curiosa con i ciuffetti così a un certo punto il pubblico rumoreggiava un po perché non iniziava questo spettacolo ma papà mi dice di una poesia vai io nella mia incoscienza figure esco fuori tutti fanno oddio perché la bambina di natale ho detto vi dico una poesia tutti di trilussa tutti di trilussa trilussa tutto polino di quattro anni e io recitai qual'era qual'era la poesia tra il vecchio porco che va che va in città vediamo se me la ricordo guarda non garantisco l'inizio due righe il vecchio porco disse a certe vacche la voglio fa finita di fa sta porca vita e voglio metter fracche scarpe con l'occhio un fiore un vetro all'occhio annammene in città e vabbè lei e lei e lei e la martini va bene d'accordo io volevo emozionarmi che volete cosa volete che vi dica allora noi abbiamo avuto come dire è una generalmente viene prima la mamma e poi viene la figlia oppure vengono la mamma e la figlia insieme non siamo riuscite a farle a farle camminare uno accanto all'altra ma guardate un po roberta che cosa ci diceva non poco tempo fa della mamma l'ora solare citiamo noi stessi com'essimo una marchini mamma mi faccia fare l'impicciona il mio mestiere oggi più che mai allora intanto non è diventata quello che è per un po quindi quando lei ha iniziato a fare questo tipo di lavoro io già ero abbastanza grande e me la volevo levare di torno quindi fui felicissima io proprio perché avevo 16 17 anni sì e iniziò per caso e quando io vedi poi che la l'iniziavano a chiamare andava io stra felice quindi però anche prima lei recitava sempre anche dentro casa anche perché c'è un nonno e andiamo ancora più indietro cioè questo nonno che lei racconta come come quelle persone meravigliose che esistono sempre positivo beh mio nonno sì nonostante avesse passato la guerra la fame la povertà primo aveva avuto la grande intelligenza di tirarsi su e anche bene il secondo era sempre allegro e io ricordo quando ero piccola che aveva visite da persone dai 30 anni agli 80 anche quando era un po più anziano poi è morto un po presto purtroppo però tutti puri miei amici volevano andiamo da tuo nonno perché lui giocava scopetta faceva le cose la sera raccontava cose quindi mia madre faceva come lui allora bella tua figlia ed è qui ti vediamo ecco qua proprio c'è tutto il gruppo no nonno mamma simona e la piccola robertina che ha sei anni insomma questo papà ha è stato molto importante per tutti in famiglia per tutta la famiglia non solo per noi sai che quando è morto mio padre purtroppo a 69 anni presto perché era ancora pieno di entusiasmi di passioni io ho incontrato un'infinità di persone che mi hanno ringraziato figurati per il bene che aveva fatto a tutti mio padre no mi fa mi fa commozione perché mia sorella era stata piccolina cardiopatica guarita perfettamente eccetera lui appena sentiva ad un bambino che aveva bisogno mandava i soldi anonimi perché non voleva o qualcuno che lo riusciva a sapere poi lo ringraziava ma lui non voleva capito non vuole essere ringraziato sì assolutamente fai bene scordate esatto ma tanta gente pensa perfino giuliano montaldo che è un grande regista una persona meravigliosa e che stasera compie gli anni fra l'altro comunque giuliano mi incontrò in banca che era morto mio padre con gli occhioni azzurri pieni di lacrime mi ha detto lo sai che io devo al tuo padre se sono rimasto a rome ho lavorato a mio padre sì perché ero giovanissimo dovevo partecipare a un bando a un concorso di un lungometraggio non avevo i soldi per produrlo un amico mi portò da papà papà era il rifugio sempre di tutti e allora gli prestò questi soldi lui vinse il premio quindi ritornò da papà con i soldi e papà disse ma che e non ne vuoi fare un altro lui rimase a roma ebbe la possibilità con quel piccolo inizio comunque di rimanere e continuare una carriera meravigliosa chiedetevi poi perché simona marchini faccia del bene con generosità ovunque vada nel mondo la frutta casca attorno all'albero lasciate la finestra aperta ci vediamo tra un attimo simona marchini ricordando il papà un uomo buono generoso generoso silenzioso nella sua generosità mi diceva un attimo fa non voglio mica fare un vanto familiare non è un vanto familiare però dicevi giustamente che raccontare il bene fa bene sì in questo senso sono abbastanza fiera della mia storia della mia famiglia tanto che tutti mi dicono scrivi scrivi perché no ma non per niente perché gli esempi positivi gli esempi di coraggio di generosità di disponibilità all'altro di valori etici che sono sempre più desueti forse aiutano gli altri a capire che si può fare si deve e si deve fare per noi è stato naturale tutto questo cioè siamo cresciute anche fin troppo ingenue io e mia sorella perché sempre con questo impulso e spinta alla generosità rispetto dell'altro che erano valori sacrosanti a casa mia non si poteva fare un pettegolezzo mio padre ci fulminava no per dirti che sono stati valori incrollabili nella nostra vita e lui diceva sempre ricordatevi siate sempre creditori e mai debitori cioè date certo non vi mettete in difetto verso gli altri perché vi fate del male e questi sono valori tu hai detto desueti con parola la tua terminologia è che appartiene si sono valori sui quali bisogna bisogna ritornare ora siate creditori noi siamo tutti debitori all'arte di simona marchini e non solo all'arte ribadisco perché sul punto sono serissima la conosco molto bene la insegue seguo da tempo perché all'arte perché tu a un certo punto diventi attrice attrice cioè quella ragazzina vi dico una poesia e poi diventa tutto vero e dobbiamo ringraziare don lurio si e romolo siena assolutamente nomi per i quali ci dovremmo alzare tutti quanti in piedi veramente perché io lo racconto sempre perché la gratitudine un altro sentimento importante che ti hanno insegnato a casa tua ecco quindi sempre per cui io don lurio l'ho considerato veramente un angelo nella mia vita perché ero disperatissima una crisi coniugale moltamente seria dolorosissima andai a cortina con un'amica mi trascinò coi ragazzini siamo andate e io ero una casalinga assoluta perché mi ero dedicata anima e corpo a mia figlia e per quello mi ero risposata e volevo i figli l'ho persi quattro volte vabbè quindi ero molto provata e insomma successa una cosa con mio marito molto molto penosa quindi ho passato un momento terribile allora questa amica mi portò via e io ero una casalinga impeccabile cucinavo stiravo facevo sapevo fare tutto perché quando assumo il compitino lo fai bene e lavoravo a maglia moltissimo ricamavo facevo le bambole della scuola steineriana avevo imparato e però grazie a dio il nostro spirito anche un po umbro così di riderci addosso mi aveva portato a minimizzare sui miei due matrimoni cioè a cogliere l'aspetto anche un po folcloristico uno calabreso non napoletano e e don lurio mi sentiva raccontare queste vicende si divertì tanto non mi disse niente mi segnalò romolo siena che cercava un'attrice inedita quando mi chiamava domani sera signora c'è il provino tu che provino quando eccolo qua romolo siena caro si è stato fantastico straordinario e don lurio mi è venuto a prendere a casa di peso mi ha portato di deve fare il tuo talento ho detto ma io non ho mai fatto niente eh meno male che non avevi mai fatto niente ma la telefonista per esempio come faceva me la sono inventata ecco io non voglio fare il jukebox a gettone però ti ho davanti a tutti noi ti prego te la sei inventata come allora ebbi la fortuna incredibile che il mio provino quello con romolo siena io lo raccontai a gianni minoli che era un amico caro era andato a lui piangendo aiutami a lavorare fare le fotocopie ma stavo malissimo ma ho detto vabbè quando torni alla montagna vediamo perché ero proprio a pezzi nel frattempo mi capita sta avventura riesco ad avere la cassetta della mia mi dico ma sai giovanni mi è capitata una cosa porta voglio vedere che hai fatto voglio vedere lui divideva l'ufficio con arbore mentre guardava io stavo in un angolo così entra arbore si ferma chi è questa brava chi è io stavo l'impietrita lui fa un'amica mia simona io buongiorno c'è proprio terrorizzata ho detto dammi il tuo telefono che appena faccio una cosa importante ti chiamo si chiama talento signora marchini si chiama talento no sono grata a vita comunque lui insomma mi chiamò un mese prima praticamente trovai tutti gli altri che erano già preparati selezionati non ho ancora deciso e mi dice ho deciso e farei la telefonista e ho detto sì signora arbore è sposata con robbie una perla e siamo andati avanti un quarto d'ora ma figli signora simone sì due guardi due stelle no perché sono i figli miei massimiliano e cinzietta ma l'estate va sì andiamo al villaggio valtoro una pace perché è tutto recintato le creature giocano e poi le dico la verità la sera mi trucco ma giusto ma tutto il giorno colpare è una pace allora a un certo punto ma così e lui mi fa va bene no dico come va bene io sono andata così alla prima puntata eh lo so l'ho vista così proprio nel terrore più totale e la cosa straordinaria era che tutti giustamente avevano il tema la sera prima sì 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 scrivano i monologhi noi non provavamo mai niente no io non avevo il tema io ero questo personaggio un po' fuori e quindi avevo la storia familiare ma anche il gossip mi piacevano gli attori le attrici una sognatrice una piccola signora tenera sognatrice e anche una testimonia in diretta del grande egoismo del marito robbie però sempre con la tenerezza di chi comunque accoglie accoglie aggiusta anche in famiglia no e quindi me la sono inventata io ogni volta stavo sui carboni ardenti perché non sapevo mai quando Renzo ma tu sai di essere diventata di essere una donna imitata nel tuo stile nel modo di parlare di quella persona dicendo faccio ma mi sembri Simona Marchini cioè quando diventi un marchio imitato e non raggiunto vuol dire che hai creato qualcosa di ma ti dico la cosa più assurda mi è capito a caldo appena fatti quelli della notte mi arrivò questo per Gigi è un altro capolavoro della mia vita fantastico no una signora carina molto semplice un'impiegatina mi si avvicinò signora che le dispiace le amiche mie mi dicono che quando la imito le somiglio ma lei era la signora Simona avevi trovato allora attenzione Gigi Proietti, Enrica Bonaccorti Simona si occupa anche di arte oltre che lavorare con gli artisti ha ridato vita alla galleria d'arte La Nuova Pesa una galleria d'arte aperta dal papà torniamo sempre al papà nel lontano 1959 Simona tocca l'opera lirica e l'opera lirica diventa regia perfetta fa diventare appassionati di opera lirica pure quelli che di opera lirica non ci capiscono niente perché è passata lei e quando passa lei cresce l'erba bella e crescono le rose e so quello che dico Unicef, ambasciatore dell'Unicef da sempre dall'87 sì ma per da sempre intendo dire che sei entrata dentro questo ruolo e lo porti avanti con tutta la serietà del caso sì, assolutamente sei anche questo? lo sono profondamente sempre per quei principi fondamentali che mi hanno insegnato io anche lì io mi ero occupata dell'Unicef con le amiche coinvolte eccetera per alcuni anni finalmente mi invitano un giorno a questo congresso insomma nazionale io vado con tutte le amiche dell'Unicef ma tranquilla avevo fatto già tante cose e c'era allora il presidente Farina che era un uomo eccezionale e all'improvviso disse oggi c'è una sorpresa perché abbiamo un nuovo ambasciatore dell'Unicef io tranquilla Simona Marchini mi ha preso un colpo mio Dio sono andata sul palco veramente confusa, emozionatissima ho detto ma io non mi aspettavo tu non ti preoccupare tu sei una persona assolutamente all'altezza e io gli dissi molto umilmente ma io voglio un consiglio perché io non voglio fare un'ambasciatrice per vantarmi o per fare la fanatica in giro no io voglio servire questa causa e come devo fare? lui mi disse fai come Audrey Hepburn quando ti fotografano con i bambini o con chi ha bisogno guarda loro e non guardare l'obiettivo Simona Marchini quando la incontrate per strada abbracciatela perché se lo merita Simona Marchini grazie 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 a te grazie di essere stata vatti dare due bacioni grazie di essere stata all'ora solare grazie grazie